Lui è Vas, il ragazzo che è diventato in queste ultime edizioni un po' la mascotte di tutti i ragazzi che portano la birra qui all'Octoberfest. Che cosa ti piace di questa manifestazione? Mi piace questa manifestazione che accogliamo sia famiglie, sia persone anziani, sia bambini, sia adulti tutte le fasce d'età, tutto il tipo delle persone, amanti dei cani, cilieci, persone che non bevano alcolici è una festa per tutta l'età, per tutta Genova è una cosa che è straordinaria che le persone dopo settimane di lavoro, giornate di lavoro vengono qua e si divertono insieme a compagnia buona musica e buona birra. Mediamente quante birre consegni ogni sera? Non le conto mai ma non finisce mai il limite, su 500 o più o meno, dipende dalle serate, le persone comunque non c'è mai limite, la birra è sempre finita, chi beve birra campa cent'anni. Che cosa consigli di provare della cucina, della gastronomia che ti serve qui all'Octoberfest? Sicuramente vi consiglio di provare i Stimco, Canederli, Spezza, tutte le specialità tipiche che ci sono qua. Puoi farci il tuo urlo tipico per attirare? Volentieri, però non si ero, credo il microfono, ok? Ok. Birra! Chi è che senza birra? Cosa ti piace dell'Octoberfest? La birra, gli amici, la compagnia, un po' di rumore, casino, stare insieme. Bello, per Genova poi è strano quindi ne approfittiamo volentieri. Avete mangiato qualcosa? Avete provato la cucina tipica? Quest'anno ancora no, stavamo per entrare, però avevamo già provato gli altri anni, estremamente buono, torniamo sempre volentieri tutti gli anni, quindi bello. Per te che dovessi definire l'Octoberfest con una sola parola, quale sarebbe? Urca! Festa, direi che la più adeguata. Che venite? Veniamo qua da Genova e tutti gli anni veniamo qua almeno una sera. Che cosa vi piace di questa manifestazione? Lui è un'occasione per stare con gli amici, mangiare uno stinco, bevi della buona birra. L'Octoberfest è in una parola. Ah, in prosi! Grazie, ciao! Mi piace l'orchestra, il mangiare, la birra. Che cosa avete mangiato questa sera? Mr. Kraut, i salsicce. L'Octoberfest in una parola. Genova. Molto bella, come ogni anno, è un'occasione per noi, per non finire l'estate e ritrovarci qua la serata. Cosa hai ordinato stasera? Brezza e loro birra. E loro hanno anche mangiato qua, li ho raggiunti dopo. Siete già venuti, l'Octoberfest, le scorse edizioni? Tizi, gli anni, a volte a cena, altre volte che non dopo serata. Sempre molto carino, soprattutto a gente. Ci descrivi l'Octoberfest con una sola parola? Brezza e loro, a volte a cena, altre volte che non dopo serata. E loro, a volte a cena, altre volte che non dopo serata. Grazie a tutti